Si apre con una spettacolare cronosquadre, la 55esima edizione del Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, riservato alle categorie Under-23 e Delizio. 16 chilometri e 100 metri da percorrere ad altissima velocità, da Città Fiera fino a Martignaco. Ed è la Chambéry Ciclise Formation, thing francese, che fa capo alla Jeu d'Azur a vincere la prima frazione del Giro. I transalpini chiudono la cronometro con il tempo di 19 primi e 41 secondi e 79 centesimi, alla media di 49,5 km orari. Al secondo posto la Leopard Pro Cycling, con un ritardo di 3 secondi, mentre al terzo i padroni di casa del Cycling Team Friuli a 7 secondi di distacco. La prima maglia gialla di leader della corsa è andata sulle spalle dell'americano Matteo Jorgenson, primo a tagliare il traguardo in via Deciani a Martignaco. Il portacolori della Chambéry è anche la prima maglia bianca di leader della classifica dei giovani. Le altre maglie sono quella blu della classifica punti di Alexander Krieger, quella rossa di traguardi volanti di Connor Brown, e quella verde di leader dei CPM di Nicola Benchiaruffi.